Una corsa che unisce agonismo e solidarietà e vivi città la manifestazione podistica che ogni anno si svolge in contemporanea in decine di località italiane e che quest'anno festeggia un compleanno speciale, il 40esimo. E allora si parte alle 9.30 di domenica 14 aprile, il via verrà dato in diretta da Radio Onorai. Saranno migliaia i podisti che scatteranno in simultanea in 38 città, da Gorizia a Palermo, da Cagliari a Bari. Tra questi ci sarà anche il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Parteciperò perché mi piace anche l'idea di partire dalla moschea, passare per la sinagoga, arrivare a Piazza San Pietro, mandare un messaggio insieme ad altri compagni di corsa o di passeggiata di quanto si possa concorrere anche con questi appuntamenti simbolici ad un obiettivo che oggettivamente mi auguro sia universale. Radio Uno accompagna e accompagnerà, spero ancora con orgoglio, questa manifestazione. Faremo una grande diretta di un'ora, dalle ore 9 alle 10.00. In mezzo alle 9.30 appunto Prio Rischi scanderà il conto alla rovescia per la partenza in queste 38 città. E quest'anno si correrà per la pace e la legalità. Ma quest'anno direi che due sono i temi specifici, particolari. Una dedica alla pace e purtroppo non potrebbe che essere così. E poi una vivicità speciale per la legalità. A Caivano partiremo dal Parco Pubblico Falcone e Borsellino e attraverseremo tutte le strade del Parco Verde.